Finalmente novità riguardo Dragon Ball Sparking Zero, Dragon Ball Z Kakarot con il nuovo DLC e anche Dragon Ball Fighters. Guardate il video fino alla fine perché ci saranno cose veramente molto interessanti. Iniziamo subito con una scan dedicata a Vegeta. Infatti l'intera pagina è proprio dedicata al personaggio e tra le primissime cose che possiamo vedere è il suo costume. Quando appunto ha lo scouter, quando arriva direttamente sul pianeta Terra per affrontare poi Goku, è tutta la saga dei Saiyan e quindi possiamo vedere il personaggio nella sua posa iconica. Molto bello vedere così Vegeta. E poi in basso ci ritroviamo anche direttamente il cannone Galick fatto sempre da Vegeta però con questi abiti. Vi faccio notare che questo attacco noi l'abbiamo già visto all'interno dei trailer però qua diciamo che il personaggio ha costumi differenti quindi te l'hanno fatto vedere con un outfit diverso, con l'armatura Saiyan che indossa appunto all'inizio della saga dei Saiyan. Mano a mano ci sono tutte scritte giapponesi perché questa è una scan da riviste giapponesi che riportano informazioni che però bene o male sono cose che noi già conosciamo. Qui ci ritroviamo questo Vegeta che sta facendo l'attacco Big Bang. Questa cosa era già presente all'interno dei trailer quindi su questo niente di nuovo. Invece questo Vegeta, a meno che non sia un frame che proviene direttamente da un trailer, mi sembra un movimento piuttosto nuovo. non riesco a comprendere se questo Vegeta sulla fronte ha una M. Poi in basso ci sono altre immagini. Ecco qua, questo Vegeta invece la M non ce l'ha. Quindi notando questo potrebbe essere lo stesso identico personaggio che c'era sopra. Quindi la M non ce l'ha. Dovrebbe essere un Vegeta non controllato dal potere di Babidi. E qua sta scagliando i suoi colpi di energia. Potrebbero essere i cosiddetti cerchietti come noi li chiamiamo in Xenoverse 2, quindi le sfere di energia, piuttosto basilari. Oppure, visto che l'inquadratura è fatta sul personaggio, potrebbe essere anche una skill del personaggio che va ad inquadrare più Vegeta, così da fare un close-up direttamente sulla sua faccia. Qua invece abbiamo un attacco che sembra uno degli impedi presenti anche ad esempio in Dragon Ball Z da Budokai Tenkaichi 3, quindi un attacco diretto verso il personaggio in forma Super Saiyan God bello cattivello. E poi bellissimo, anzi bellissimi entrambi questi Vegeta. Si parte con questo che dice I am Super Vegeta. Quindi bellissimo quando si indicano, ed è la battaglia contro Cell. Anche se qua lo scenario... No, all'inizio sembrava una Mech, ma non mi sembra. Dovrebbe essere direttamente l'arcipelago in cui combatte contro Cell. E poi in basso notiamo invece questa grande scimmia spettacolare, ma l'abbiamo già vista all'interno dei trailer. Magari qua c'è un frame differente in cui si scatena, però veramente una bella pagina dedicata a Vegeta. Si parla di Power vs Speed. Tra l'altro questo sembra che sia il nome del nuovo trailer che dovrà uscire. Badate bene, c'era questa notizia che girava su internet dove si parlava di questo nuovo trailer chiamato Gohan's Destiny. A quanto pare, se il nuovo trailer si chiamerà Power vs Speed, non è quello il nome del nuovo trailer. Quindi occhio alle informazioni che girano anche su canali americani che riportano informazioni così. Quindi occhio ad informazioni che non provengono da fonti appunto importanti. Ed eccole qua, ragazzi. Finalmente le scan dedicate invece a Goku. Anzi, la scan da notare che qua è riportato Eternal Rival. Il confronto è tra Goku e Vegeta. In pratica qua vengono riportate un po' tutte le scritte che il gioco uscirà per PS5, Xbox Series X ed S. Ancora non c'è una data d'uscita, sia ben chiaro. Vediamo il Goku nella sua posa iconica che abbiamo visto anche in questo caso nella battaglia contro Vegeta. Questa è un'immagine potenzialmente tutta nuova per quanto riguarda Goku. Guardate voi stessi, il cosiddetto stamina break, noi lo chiameremmo così in Xenoverse 2. Bellissimo questo attacco, anche se potrebbe forse essere qualcosa incluso in qualche attacco del Kaioken, pensandoci. Comunque veramente spettacolare, veramente molto bello. La faccia di Vegeta si vede poco, perché credo siano questi effetti del colpo. Però Vegeta sta facendo una faccia con occhi sgranati, quindi veramente spettacolare. E Goku prontissimo, carichissimo, a dare questo colpo. Guardate anche i suoi capelli molto movimentati. Non vedo l'ora di vedere questa roba animata, veramente spettacolare. Qua poi, vabbè, c'è un'immagine in realtà che conosciamo benissimo. C'è ben poco da dire in questo caso, però molto bello anche questo Goku Super Saiyan Blue. Ma, ripeto, l'abbiamo visto nei trailer. Questo frame proviene direttamente dai trailer che noi abbiamo già visto riguardo Spark in Zero. E in fondo, anche la stessa cosa l'abbiamo per questo Goku Super Saiyan di terzo livello. Quindi, due scan che ci danno qualche altra informazione, poche cose, ma comunque io vi tengo sempre aggiornati. E per questo motivo vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi. Attivate la campanella delle notifiche. E non è finita qua, perché andiamo velocemente su Dragon Ball Fighters. Il gioco uscirà ufficialmente anche per PlayStation 5 e Xbox Series X ed S, è riportato qua in alto. Verrà implementata ulteriormente la meccanica del rollback. Per farla semplice, quando c'è magari un po' di lag nelle partite online, c'è una meccanica. Il gioco prevede quale potrebbe essere la prossima mossa del nemico e di conseguenza ci dovrebbe essere meno lag. Ve l'ho spiegata molto facile, poi si dovrebbe entrare molto nel tecnico. E poi vi faccio notare che viene specificato che il gioco avrà una qualità in 4K. Quindi il gioco, magari essendo leggerino, nonostante le animazioni spettacolari, può permettersi in questa nuova versione PlayStation 5 di avere il 4K. Ovviamente 60fps, chissà seppure di più. E vi fa notare in questa immagine, che magari c'è la mia facecam un po' davanti, in pratica qua viene riportato che anche lo sfondo, cioè quindi ad esempio nel torneo, nello stage del torneo, anche le persone sullo sfondo saranno in HD, cioè si vedono proprio bene, belli, con contorni che non sgranano, per farla semplice. Quindi ottimo, è un'ottima notizia. Dragon Ball FighterZ ultimamente ci sto rigiocando un po' con tube, ci stiamo divertendo un botto. Il gioco, secondo me, merita e ha sempre meritato. E infine, passiamo al nuovo trailer dedicato a Dragon Ball Z Kakarot, il sesto DLC. Vedete? Metto un attimo in pausa, perché ragazzi, questa reaction la voglio un attimo fare più analizzata. C'è scritto proprio chiaramente Final Episode, quindi l'episodio finale del secondo Season Pass, perché ogni Season Pass include tre DLC, due sono già usciti, questo è l'ultimo. E da come potete notare, abbiamo questo bel Goku col Ghee Blue. Quindi proprio con gli abiti di fine Z. Vediamo Pan, quindi addirittura se la porta appresso. Quindi rientra di nuovo nel gioco la meccanica di portare con sé qualcuno, come facevamo in precedenza, no? Nel gioco base. Poi sta cosa è venuta un attimino meno con i DLC, dove il protagonista era uno. Qua c'è la battaglia addirittura con Pan. E poi ci sono varie scene dedicate al torneo, dove partecipa pure Pan. E quindi ci sono tutti questi filmati di gioco. Eccoli qua, tutti belli carichi. Veramente spettacolare sta cosa. Vedete, Pan ancora una volta sta insieme a noi. Chissà se può essere anche giocabile Pan. Non è da escludere, eh. Anzi, molto bello che si incontra anche con Bra. Poi abbiamo praticamente anche... Vedete, guarda, Krillin è un po' invecchiato quasi. L'outfit diverso anche per C18. Piccolo sempre carico. E poi c'è anche, vabbè, Mr. Satan e altri personaggi. Guardate questo abito di Vegeta. Bellissimo, secondo me. Ah, qua c'è la battaglia di Pan. Ma è giocabile! Pan ufficialmente giocabile! Attenzione! Bellissimo! Vabbè, Pan, ragazzi, diciamo che non è chissà che mosse potrà fare. Però mi aspetto comunque di poterla giocare in maniera divertente. Non vedo l'ora. E poi finalmente si passa a Ub. Comunque chissà se Ub sarà giocabile. Però no, qua sembra che stia combattendo Goku. Vedete, qua è quando c'è la scarica. Ormai non la faccio da tempo su Kakerot la scarica. Non vedo l'ora di rigiocarlo questo DLC. Credo che questo Goku avrà anche mosse belle diverse. Bellissimo! Guardate che scontro! Però sti... Ah, attenzione, perché la strada per diventare il più forte continua? Cioè, va avanti. Ti fa rivedere un po' tutte le scene più importanti di Kakerot. Bellissimo! Ma già è il finale! Ma no! 21 febbraio 2024! Quindi, ragazzi, a giorni il DLC uscirà. Ovviamente, appena uscirà, vedrete l'intera storia qua sul mio canale. Proveremo anche Pan, proveremo tutte le missioni secondarie. E quindi, eccolo qua. Febbraio 21, quindi il 21 febbraio 2024. Gli altri due DLC dedicati a Bardak e al ventitresimo Torneo Tenkaichi, li avete già visti qua sul canale, con vari video, c'è tutta la storia. Correte ora a recuperarli, ma dovete sapere che in realtà non è finita. Ma c'è ancora altra roba! Ma perché c'è questo trailer? Perché hanno messo questo? Scontro con Vegeta? Scontro con Vegeta? Ma questa roba, scusami, eh. Questa roba non c'è nel finale di Zeta. Ma è un'aggiunta? Ma soprattutto, è un'aggiunta canonica? Cioè, questa cavolo d'immagine qua in alto, che ti va a coprire proprio il Vegeta. Ma siamo matti? Si, arriva proprio Vegeta? Che sta per affrontare un po' tipo come Dragon Ball Super, no? Ma mica lo richiamo a Super. Perché vi ricordo che questi eventi di Dragon Ball Zeta dovrebbero arrivare dopo la fine di Dragon Ball Super. Vi ricordo, infatti, che Super si colloca, diciamo, tra Zeta e la fine di Zeta. È difficile da spiegare, ma se conoscete Dragon Ball avete capito cosa intendo. Cioè, gli eventi con Ub dovrebbero accadere potenzialmente dopo Dragon Ball Super. E chissà se questo è un richiamo. Però, in Dragon Ball Super, Goku non c'ha il ghi blu. C'ha il ghi, quello lì, solito, no? Eh, ragazzi, spettacolare. Chissà se questa roba è canonica. Vi ricordo che Kakarot ha aggiunto proprio delle cose che poi sono diventate canoniche. Eh, quindi chissà. E non è finita qua, perché abbiamo anche un altro trailer dedicato proprio all'intero gameplay. In questo caso, contro Goten. Cioè, è un vero e proprio gameplay reale. Perché, da come vedete, ci sono proprio... C'è la caudia a schermo. Cioè, quindi, ci sono le vite dei personaggi, in basso a sinistra le mosse. Da notare che qua, ragazzi, Goten è... Non è adulto, è ragazzo. Finalmente Goten non più bambino moccioso, come al solito. Finalmente sti ragazzini sono cresciuti. Quindi dovremmo vedere anche Trunks nel DLC, ma c'era già nel trailer visto prima. Qua è un... Questo è un vero e proprio gameplay trailer, perché ti fa vedere, vedete, proprio l'intero scontro, che sarà di sicuro all'interno, quindi, del DLC, dedicato appunto a questo Goten, che è come se fosse un mini-boss. Mettiamola così, vedete? Fa l'aura rossa attorno. Quando c'è l'aura rossa, vuol dire che il personaggio, diciamo che te la devi gestire bene, perché è inscalfibile. Vedete? Fa pure tutte queste mosse. Goku si è spostato. Ci sono vari attacchi che Goten fa, bello scatenato. Vediamo se la fa la scarica. Guarda quante sfere di energia mette in campo. E quindi il gameplay di Kakarot, anche in questo DLC, deve essere bello, dinamico, veloce, per scansare tutti sti colpi. Qua ha provato a pararsi, più o meno. Ci ha provato, eh, veramente. La scarica se la fa? Se la fa la scarica. Ed ecco qua l'esplosione di energia. Molto bella. Bello vedere Goku con questo abito particolare. È sempre stato curioso, poi è ricollegabile un po' in parte a Dragon Ball GT. Però, diciamo, lo sappiamo, GT è tutta una cosa a sé. Molto bello questo scontro. Però è uno scontro a sé stante. Non ci sono supreme, vere e proprie, almeno per ora. Da notare una cosa curiosa. I tasti, in basso a sinistra, non sono né quelli dell'Xbox, né quelli di PlayStation. Perché un trailer deve essere, diciamo, come dire, non fazioso. Non deve rappresentare né una console né l'altra. Quindi, vedete, i tasti sono vuoti. E poi che c'è... Scontro delle aure! È pazzesco, bellissimo! Ci sta, vabbè, te l'hanno fatto bene ad aggiungertelo. Un po' meno mi è piaciuta, se devo essere sincero, questa cosa. Perché questa animazioncina qui, ve la faccio vedere, è quella di quando Vegeta... È la posa di quando Vegeta viene colpito dalla Kamiamiya di Goku, quando Goku c'è il Kaioken nella saga dei Saiyan. E quindi, qua in questo trailer viene detto febbraio 2024. Cioè, due trailer usciti nello stesso giorno, uno ti riporta febbraio 2024. Nel momento in cui sto registrando è il 17 febbraio. Cioè, la data... Ma la volete dare che due settimane nemmeno sto mese finisce? Invece nell'altro trailer l'hanno data, la data. Boh, scusate il gioco di parole, sta cosa per me resta incomprensibile. E infine, per concludere, abbiamo anche la scan dedicata completamente al DLC di Kakarot. Bellissima questa immagine, stupenda a dir poco, dedicata appunto a Ub e Goku. Qui è quando proprio finisce il torneo, cioè dovrebbero essere le ultime fasi del DLC. E poi abbiamo questo Goku sorridente, abbiamo anche questa immagine qui, che sembra non provenire assolutamente dal torneo. Sembra tipo... sì, le montagne in generale vedo... Forse può essere vicino a casa di Goku. Probabile qui Goku si è girato per l'arrivo di Vegeta e Bulma. Ancora qua Ub. Qui c'è... vabbè, si sono tutti diretti al torneo. Bellissimo questo outfit di Vegeta e pure questo di Trunks. Mi piacciono un botto. E poi, vabbè, Ub un attimino così, un po' di vergogna per quello che sta per succedere. E poi la battaglia pazzesca tra i due. E se... ah, e non finisce qua, perché in basso ci sono queste immagini, chissà che vuol dire questa qua dedicata a... Forse è un ricordo, si sblocca qualcosa, è dedicata appunto a Nappa. Poi qui abbiamo Kiki, è un po' invecchiata. Videl con questo taglio, ma in generale proprio così inguardabile. E poi a sinistra, vedete, altre scene dedicate a Gohan. Non so perché in basso a sinistra c'è questo menu. Non so cosa sia questo menu, mi sfugge. Se vi viene in mente, scrivetemelo nei commenti. E quindi questo intero DLC lo vedremo sul canale il 21 febbraio. Già dal day one, quindi non mancate. Altre notizie su Dragon Ball, Spark in Sido e tanto altro. Arriveranno a breve sul canale. Non ve le perdete. Alla prossima.